bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xpuder e oggi ragazzi parliamo di rules of survival oramai sta dilagando sempre di più ragazzi nei videogiochi per android e per ios ragazzi rules of survival si continua a dimostrare ogni settimana che passa veramente veramente molto sostenuto dal suo team di sviluppo che ogni sette giorni ci garantisce un super aggiornamento andando a toccare i punti più fastidiosi del gioco e inserendo un sacco un sacco di nuove funzionalità quindi oggi ragazzi volevo parlarvi ufficialmente di ciò che ci dovremmo aspettare il 17 gennaio andiamo subito a vedere le novità inserite ragazzi aggiunte le bandiere nazionali da adesso i giocatori potranno selezionare le bandiere per rappresentare la propria nazione bellissima idea finalmente per tanti di voi che me l'avevano chiesto ragazzi è stata inserita la possibilità di cambiare il proprio nome e non come in clash royale una volta sola e poi basta potremo cambiare il nome una volta al mese ragazzi per un numero illimitato di volte bellissimo anche questo hanno aggiunto e l'avevamo già visto un paio di video fa quando vi ho spoilerato qualcosina che sta per arrivare è stata inserita la possibilità al nostro personaggio di sporgersi a destra e a sinistra quindi se siamo dietro ad un muro possiamo tenere completamente il corpo coperto sporgersi solamente con la testa e con l'arma credo ma non è specificato quindi poter sparare ad un avversario senza scoprire tutto il corpo veramente veramente molto molto fico ha fatto anche un altro aggiornamento lo sapete che io amo rules of survival perché gli sviluppatori della net is ci piantano dentro le cacatine che a me mi fa piacere un sacco ragazzi abbiamo visto gli aggiornamenti sulle biciclette adesso c'è quello dietro che abbraccia davanti con le gambe fa ridere ragazzi hanno aggiunto le granate al pollo si granate al pollo ragazzi e ci dicono addirittura che sono esattamente uguali come funzionalità alle granate normali quindi esplodono all'impatto ma si possono lanciare più lontano e addirittura fanno più male ragazzi non vedo l'ora di vedere la granata al pollo che deve essere quelle robe idiote che ti fa piacere su rules of survival hanno aggiunto due nuovi modi per guadagnare i token ragazzi per chi mi ha chiesto come si potevano guadagnare adesso li possiamo ottenere condividendo il look solo una volta al giorno e arrivando primi in qualsiasi modalità sempre e solo una volta al giorno hanno aggiunto anche delle migliorie appunto per chi voglia acquistare i token credo li abbiano un attimo diciamo sistemati potrete comprarne di più questo non ci viene tanto tanto specificato hanno aggiunto finalmente il supply box elite l'avevamo già visto nello scorso video è un nuovo box che costerà 6.000 di gold ci dicono anche il nome finalmente si potrà ottenere all'interno di esso dei look avanzati incluse le camos che sono praticamente le skin per le armi da fuoco possiamo anche prendere trovare dei pezzi di puzzle ma non quelli viola quegli altri che costano di più per prendersi la roba sempre in questo special box che si chiama elite hanno inserito e verrà inserito per un breve periodo di tempo un speciale uno speciale evento invernale che si chiamerà down cot o meglio o meglio per l'evento invernale verranno inseriti dei vestiti delle giacche dei pantaloni che saranno disponibili solo appunto per un periodo molto molto limitato e hanno anche fatto come novità una sistemazione nel discount che adesso è suddiviso in due schede che si chiameranno rispettivamente pack e lux praticamente entrambe le schede avranno degli aggiornamenti regolari quindi non dico quotidiani ma comunque un bel refresh della roba che potremmo acquistare e hanno infatti inserito questa cosa per darci più possibilità di variare i vestiti del nostro personaggio passiamo quindi ragazzi al gameplay hanno aggiunto dei punti di spawn ulteriori per le barche quindi ne potremo trovare di più le stanno ancora testando bene il motoscafo e sicuramente nei prossimi aggiornamenti verrà migliorato alla perfezione ha fatto un'altra porcata perché sono capace a far ste porcate nel senso prima che vi dico la porcata però ragazzi mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video degli aggiornamenti di rules of survival e di iscrivervi al canale youtube anche per giocare con me il pomeriggio durante le live hanno modificato la capacità dei posti a sedere dei veicoli ragazzi e non stiamo parlando della bicicletta allora il suv e l'automobile li hanno aumentati a cinque posti complessivi quindi quattro più il guidatore il suv dovrebbe essere quella jeep che ha solo due posti hanno fatto una modifica anche al numero di posti a sedere della pecar adesso e qua ragazzi ci lasciano intendere che qualcosa di interessante sta per arrivare sulla pecar ci possiamo salire in undici undici posti per salire nella pecar uno lati che guida e dieci dietro nel cassonetto meraviglia delle meraviglie eccezionali hanno aumentato la distanza di lancio delle delle granate delle molotov di tutti gli oggetti che possiamo lanciare quindi vanno più in avanti e tra l'altro hanno anche risolto il bug che praticamente se noi andavamo a colpire ad esempio una granata un veicolo questo non veniva danneggiato adesso invece potremo seriamente danneggiare i veicoli con tutti gli oggetti che possiamo lanciare hanno anche inserito una nuova modalità da spettatore adesso ragazzi quando veniamo chillati possiamo andare a vedere chi ci ha chillato e fare gli spettatori di questo giocatore hanno fatto anche delle migliorie agli effetti audio e agli effetti grafici hanno leggermente diminuito la definizione dei pacchetti che vengono rilasciati quando chiliamo un avversario e hanno aggiornato molto interessante l'immagine quella che troviamo per terra delle munizioni della pistola che effettivamente se ci facciamo caso era uguale per quelle delle mitragliatrici leggeri quindi molto molto apprezzato anche questo aggiornamento hanno aggiunto delle opzioni di personalizzazione per gli zaini le medicine e i materiali da lanciare li andremo a trovare nella scheda delle impostazioni personalizzate dopo l'aggiornamento del 17 finalmente hanno migliorato anche la visibilità dei marcatori nella mappa dei nostri compagni di squadra sia quando li abbiamo sotto che vediamo il numerino e il nome li hanno migliorati molto più visibili ma anche quelli proprio mentre noi ci dobbiamo muovere e non sappiamo proprio nell'immediatezza dove sono eccezionale ma ragazzi finalmente questa l'aspettavo io da buon streamer che sono ragazzi finalmente hanno aumentato il numero massimo di richieste di amicizia che possiamo accettare non so se mi abbiano ascoltato o se si siano resi conto che diventa difficile poter sostenere e portare avanti un gioco durante una diretta in streaming quindi non so di quanto non sa nessuno di quanto ma per fortuna aumentato non più a 100 speriamo a 5000 così siamo a posto hanno ottimizzato poi la funzione di richiesta per il team up per la ricerca di giocatori non amici e formando quindi una squadra e hanno anche aggiunto e sistemato alcune mosse casuali che il nostro personaggio eseguirà quando è fermo nella lobby non rimarrà fermo come uno spaventa passeri hanno anche corretto un bel po di bug ve li vado a dire velocemente siamo sì ve li vado a dire velocemente hanno corretto il bug dove hanno corretto quel bug lì finalmente non dovrebbe crashare più all'inizio ecco ve lo ve lo dico più velocemente corretto il bug dove il gioco crashava o non caricava speriamo che sia vero hanno risolto il problema dei caschi a prova di proiettili che dovrebbe essere nel metto a livello 3 forse anche a livello 2 praticamente succedeva che alcuni giocatori se li toglievano ma rimanevano sempre sulla testa del giocatore a me non è mai successo corretto anche questo bug hanno sistemato anche l'effetto della granata flash dove praticamente era troppo accecante o comunque accecava anche se per caso eravamo coperti dietro ad un muro hanno risolto il bug di alcuni kit medici che anche se raccolti rimanevano sul terreno ovviamente non non potevamo più raccoglierli ma rimanevano e non era bello da vedere hanno risolto anche il counter piccolino del numero degli oggetti che possiamo lanciare che a volte anche se li usavamo rimaneva sempre uguale e hanno risolto il bug che hanno risolto il bug dei farmaci che i farmaci utilizzati bloccavano la vista del mirino boh non mi è mai capitato non so neanche bene che cosa voglia dire beh ragazzi direi che per oggi è davvero tutto questo è quello che ci dovremmo aspettare il 17 gennaio nell'aggiornamento nuovissimo di rules of survival ragazzi ve l'avevo detto a fine mese sembrerebbe invece che arriveranno le 8 versus 8 beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel like mi raccomando fate un salto sulla pagina facebook ufficiale di rules of survival che si chiama rules of survival ita official e mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao